La prima domanda è proprio sul tuo impiego, sul tuo ritorno in campo, soddisfatto e se hai accusato qualche problema dopo questi 90 minuti, se stai bene? Sì, a livello fisico è chiaro che devo migliorare, era la prima partita dopo un lungo periodo di assenza al campo e quindi devo migliorare sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista della prestazione perché so di poter fare di più, so di non essere stato lucido, lucidissimo in alcuni frangenti della partita però penso che la prestazione sia stata fatta da parte di tutta la squadra, abbiamo fatto 90 minuti nella loro metà campo ci è mancato solo un pizzico, un guizzo per vincere la partita, loro hanno fatto 90 minuti nella propria metà campo sapevamo di dover affrontare una squadra che avrebbe fatto questa partita, però ci hanno punito al nostro unico errore su una grande punizione e poi è stato un rincorrere Il ritmo gara è chiaro che lo devi riacquisire dopo il lungo stop, ma dal punto di vista medico ti senti guarito al 100% da adesso in poi vedremo il vero Luca Palmiero Sì, dal punto di vista medico sono guarito, mi auguro di riuscire a trovare la continuità che mi è mancata in questo periodo e niente, solo dopo partita posso riuscire a riacquistare una condizione fisica ottimale Luca, hai seguito le ultime gare, eccezione fatta per quella di oggi dalla tribuna cosa non va in questo Pescara che non è più quella squadra che avevamo ammirato fino a un mese e mezzo fa? Secondo me oggi la prestazione c'è stata, affrontiamo un avversario ostico, come ho detto giocano tutti e 11 dietro la linea della palla C'era da aspettarselo però Sì, infatti noi sappiamo la partita che andavamo ad affrontare come ho già detto ci hanno punito sull'unica occasione che hanno avuto che è una punizione, ha fatto un gran gol il loro centrocampista e poi è stato rincorre, siamo riusciti a pareggiarla e ci è mancata qualcosa per vincere qualche occasione c'è stata però non era facile con tutti e 11 dietro la linea della palla che chiudevano gli spazi, abbiamo fatto 90 minuti nella loro metà campo quindi dire che la prestazione non ci sia stata, non sono d'accordo su questa cosa però è chiaro che se la partita non la si è vinta c'è da migliorare qualcosa